La Milano è con Santo Laganà, la Milazzo, la Sicilia, non cambia nulla, sempre da lontano Io non volevo parlare, però mi ha dato l'assist Luigi De Magistris, poi altre cose che avrei voluto dire, le hanno detto chi ha parlato prima di me, le ha dette in parte il buon marito, Carlo Buonmarito, e le ha dette Angelo Broccolo De Magistris ha detto che noi facciamo le manifestazioni giustamente, però Mimmo Lucano è imputato, e anche questo è vero Io vorrei aggiungere che siamo tutti imputati, non solo Mimmo Lucano, e in parte riprendo un po' chi mi ha preceduto poco fa Siamo tutti imputati perché è vero che sul piano giuridico c'è un imputato, insomma, ci sono i testimonici, è la procedura processuale Però una cosa che ho già detto altre volte, ma che mi preme a ripetere, è che messo sotto processo non è tanto Mimmo Lucano e gli altri imputati Messa sotto processo è la nostra Costituzione Repubblicana E in particolare l'articolo 2 della Costituzione Repubblicana, perché in questo paese si è realizzato perfettamente l'articolo 2 della Costituzione Leggetelo l'articolo 2 quando dice che la Repubblica riconosce, quindi esiste già prima dell'uomo E garantisce i diritti inviolabili, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, il diritto alla salute Di chi? Dell'uomo, dice l'articolo 2, non dice del cittadino, non dice del bianco o del nero Non dice dell'italiano o dello straniero, dice dell'uomo E poi richiama al dovere, perché se il diritto non è controbilanciato da un dovere diventa privilegio Richiama al dovere di solidarietà politica, economica e sociale Bene, ditemi voi se non si è realizzato questo a piace E allora quando viene messa sotto processo la Costituzione, siamo messi sotto processo tutti Quindi siamo tutti imputati e dobbiamo ragionare in questa maniera Una sola cosa volevo dire e basta Intanto io mi ritengo un amico di Mimbo Lucano e già questo per me è una cosa importantissima Avere stretto la mano a un peppino lavorato Ma forse una medicina per me Volevo dire, volevo raccontarvi solo una cosa brevissima Prima ha parlato una signora, si chiama Come si chiama? Non mi ricordo più Luciana Negro, prima Luciana Negro abita nell'isola di Libari E qualche giorno fa mi ha telefonato Io non la conoscevo, non la conosco Mi ha telefonato dicendomi Guarda che il suo numero, ci sono dati di lei inizialmente Perché non si si conosceva Il suo numero me l'ha dato Angelo Broccolo Io oggi ho scoperto che non si conoscono neanche fra di loro E mi ha detto, sai io sono a Liberi, lei è a Milazzo Ma ho saputo che il mare age Ce l'ha un passaggio in macchina? E gli ha detto, certo C'è un passaggio in macchina Allora stamattina alle 8 ci siamo visti al porto di Milazzo Lei è partita da Libari stamattina presto Ci siamo visti al porto di Milazzo Abbiamo fatto il viaggio insieme Ci siamo conosciuti Faremo il viaggio di ritorno Con una persona che prima di stamattina io non avevo mai visto Né lei non aveva mai visto neanche me Ecco in un certo senso anche questa è Riace E grazie a Riace che io ho conosciuto per ultima Giuliana Negra Ma ho conosciuto tante persone con i quali ancora collaboriamo e lavoriamo Ecco Riace è stato anche questo Non perdiamoci di vista Grazie Dobbiamo andare velocemente perché mi sa che Giove e Pluvio ci sta minacciando Devo ringraziare l'avvocato Andrea D'Acqua Che difende insieme al professore Giuliano Pisapia Gratuitamente ovviamente il monocano Andrea non vuole parlare Ti salutiamo sempre con il consueto affetto Grazie